Il foyer del teatro Maruccino di Chieti attenerà a battesimo la nuova giunta di Primio. Sono nove in totale gli assessori scelti dal sindaco al suo secondo mandato, quattro sono donne. L'architetto Raffaele Di Felice è una new entry e sarà l'assessore ai lavori pubblici. Lavorerà in tandem con l'ex assessore Mario Colantonio per i prossimi cinque anni alle prese con l'urbanistica. Giuseppe Giampietro, il più votato nelle passate elezioni, sarà il vicesindaco. A lui di Primio ha anche assegnato la delega all'istruzione. Alessandro Bevilacqua avrà la delega ai rifiuti, forse la più scottante in questo momento vista la situazione d'emergenza della discarica di Colle Marconi. Antonio Viola resta in giunta ma con le deleghe allo sport, alle manifestazioni, ai grandi eventi e alla cultura. Emilia De Matteo si occuperà delle politiche sociali e Carla Di Biase, altro nuovo ingresso, avrà la delega al commercio e alle attività produttive. Ci sono poi anche due assessori esterni, la commercialista Valentina Luise, che torna a Palazzo d'Achille dopo l'esperienza nell'aggiunta Cocullo, questa volta alla guida dell'assessorato al bilancio, e Maria Rita Salute, che prende il posto, che sarebbe dovuto essere, della campionessa di ginnastica ritmica Fabrizia Dottavio, che all'ultimo ha declinato l'invito ad occuparsi dello sport. A Maria Rita Salute il sindaco ha assegnato forse l'assessorato più difficile e tormentato, le politiche della casa, che furono di Ivo D'Agostino, travolto dall'inchiesta giudiziaria sull'assegnazione delle case popolari. Come ha preso il no della Dottavio? Ma guardi, l'ho preso benissimo, nel senso che io l'avevo preannunciato, non era l'unica tra l'altro ad essere stata interessata da me per questo incarico. Sarebbe stato, credo, anche per lei, una buona cosa, ritengo. Ho pensato prima alle deleghe, poi alle persone. Così Di Primio ha cercato di spiegare gli equilibri raggiunti all'interno della sua giunta. A Forza Italia sono andati tre assessori, con l'Antonio Bevilacqua e De Matteo, due al nuovo centrodestra, di Biase e di Felice, ad Identità Tiatina il vice sindaco e assessore Gian Pietro, mentre l'Udc è rappresentato da Viola. Tanti tra i consiglieri sono quelli scontenti, tante le esclusioni eccellenti, come quella di Melideo, ma la priorità, spiega Di Primio, è mettere le persone giuste al posto giusto. Prima le competenze, poi chiaramente anche l'aderenza politica ideale a quelle competenze, ma soprattutto, lo ripeto, una squadra coesa che deve lavorare ed essere al servizio dei cittadini ogni giorno ed ogni ora.